ragazze oggi voglio proporvi qualcosa di molto veloce da per la decorazione parliamo di una stella stella alpina una stella comunque a sei punte molto semplice e veloce da fare creiamo il nostro lavoro lavoro circolare e lavoriamo le mani e lavoriamo 6 maglie alte quindi sono 1 2 3 5 e 6 ne crea uno in più chiudiamo il lavoro e chiudiamo il nostro tondino da qui saliamo di 4 catenelle quindi sono una, due, tre, quattro lavoriamo una doppia maglia alta che andremo a chiudere nel nostro prima maglia che abbiamo lavorato saliamo di 3 catenelle una, due, tre, che chiuderemo nella nostra doppia maglia e riscendiamo di 4 catenelle e chiudiamo il lavoro all'interno della nostra maglia con una maglia bassissima ricominciamo con 4 catenelle una doppia maglia alta che verrà posizionata nella seconda maglia alta che abbiamo creato inizialmente 3 catenelle 3 catenelle e chiudiamo nella maglia 1, 2, 3, 4 e chiudiamo il nostro lavoro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 quindi partiamo le nostre 4 all'interno della seconda maglia alta invece le doppie maglie alte andremo a lavorarla sulla terza l'importante è che siano le doppie maglie alte che corrispondono alla doppia maglia sotto così per gli altri tre giri vediamo anche la conclusione quindi sono 1, 2, 3 del nostro lavoro quindi chiudo il pippiolino 1, 2, 3, 4 ecco qua e siamo arrivati alla conclusione della nostra stella ecco qua voglio metterla in modo ecco qua qui è uscito un pochino larga comunque sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 la nostra stellina ottima da utilizzare comunque sia su... non so sull'abbigliamento da utilizzare comunque come accessor di abbigliamento oppure ottimo anche da fare come recchini visto che comunque siamo in periodo estivo quindi e con questo spero che si veda bene vi lascio ciao ciao